salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruno mi trovo in malesia eccoci qua questo abbiamo una persona molto simpatica contentissimo e questo posto si sono arricchiti vendendo i condizionatori è proprio un posto della condizionatori ecco l'omino che avete visto era venuto qui per cercare di impedirmi di fare le riprese io l'ho fatto lo stesso l'ho fregato